Così non si può andare avanti, diciamo che il bicchiere è strapieno, qualunque cosa si chieda non si hanno risposte, qualunque cosa si propone non si hanno risposte, mentre la necessità degli operatori del centro storico, anche alla luce di quello che è successo e che era stato preventivato, hanno bisogno di risposte concrete per poter lavorare tranquillamente e per poter lavorare in un ambiente che gli consenta loro di portare avanti la propria attività in maniera corretta ed economicamente valida. Se non vi sono controlli in questo territorio, sicuramente il rischio è che la cosa degeneri ancora di più. La cosa che abbiamo chiesto a gran voce al di là del regolamento, sia noi come confesi esercenti ma anche la FEPA Gascom, è quello che vi siano dei controlli per evitare che in questa zona gravitano solamente persone che nulla hanno a che vedere con le attività sane di questa zona e quindi di conseguenza se non si interviene ma velocemente sia col regolamento ma soprattutto dopo il regolamento o la conseguenza del regolamento con i controlli, sicuramente bisognerà mettere in atto delle iniziative per far cambiare l'idea a chi ci governa perché in altri modi non ci siamo riusciti. Il regolamento era una cosa semplice, ne abbiamo parlato per diverso tempo, abbiamo dovuto far ricredere all'amministrazione sul primo documento che aveva fatto, ne ha ripresentato un altro però diciamo migliore di quello che aveva presentato in prima istanza, noi gli abbiamo fatto le nostre osservazioni, abbiamo sollecitato una risposta alle nostre osservazioni sia via mail sia con telefonate alla segreteria degli assessorati, ad oggi non abbiamo avuto risposta e questo ci costringe a fare questa conferenza stampa ma anche poi a valutare iniziative di altro tempo. Il regolamento è un regolamento che è stato soprattutto emendato da parte nostra e dall'incontro che avevamo avuto quando lo abbiamo presentato, sembrava anche in larga parte condiviso, soprattutto per quanto riguarda l'apertura di determinate attività, la possibilità di dare alle attività virtuose dei benefit, che però devono essere esclusivamente a vantaggio delle attività di pubblico esercizio, che sono quelle che servono in questa zona, soprattutto è importante che venga messa nell'ordinanza la normativa che per quanto riguarda i minimarket, i negozi di vicinato, dopo la mezzanotte non devono tenere in vista e a portata del pubblico per il libero servizio nessuna bottiglia di alcol, perché voglio dire è sicuramente quello un motivo per il quale poi nel territorio del centro storico a una certa ora vi sono situazioni che nessuno vorrebbe vedere. Un'altra questione fondamentale è quella che venga sicuramente in asprita alle sanzioni per questo tipo di attività, perché voglio dire adesso sono sanzioni che sicuramente non corrispondono o non fanno nessun effetto se uno si prende una multa di quel tipo. Tutto questo però non può essere messo su un regolamento o poi messo in un cassetto, ma deve essere attuato con una vigilanza continua su questo tipo di attività, perché è da mesi che noi stiamo chiedendo questa cosa ed è da mesi che noi riscontriamo che i controlli latitano. Un'ultima questione è quella che una volta per tutte bisogna anche intervenire su chi frequenta il centro storico, nel senso che vi sono dei regolamenti di polizia urbana che consentono anche alla vigilanza di intervenire su chi non si comporta per strada in maniera normale, in maniera decente, in maniera consona. Questo non è mai avvenuto, anzi è avvenuto l'incontratto che se c'era uno che schiamazzava e urlava in mezzo alla piazza, se di fronte a questa piazza vi era un bar, si dava la multa al bar perché questo schiamazzava davanti alla piazza. Io credo che se uno, voglio dire, si mettesse a urlare in una determinata zona della città, sicuramente arriverebbero le forze dell'ordine o la vigilanza e sicuramente qualcosa succede. Non si capisce bene perché qua questo non succeda. E quindi di conseguenza riteniamo che a fronte di un'approvazione immediata e urgente di questo regolamento deve essere anche portato avanti un discorso di controllo che fino a questo momento non c'è stato. Abbiamo indetto questa conferenza stampa per lamentare la titanza degli ultimi mesi del Comune che a fronte di un regolamento fatto concordato non ha ancora visto la luce. Monica se non mi fai delle domande io non so cosa dire. Allora te la faccio subito una domanda. A mezzo stampa l'assessore piazza ha detto nei giorni scorsi che giovedì arriverà l'argomento in giunta. Ne avete saputo qualcosa? Avete avuto risposta alle vostre domande? Assolutamente nulla. Noi abbiamo sollecitato l'ultimo incontro definitivo da cui poi il regolamento dovrebbe essere presentato in giunta ma non abbiamo avuto risposta. Questo è successo ormai tre settimane fa. Vivendo tutto quello che ha detto Cesare, la nostra città si trova davanti alla grande occasione del turismo che fermia il centro storico ormai regolarmente con costanza durante tutto l'anno. Credo che la cosa migliore che possiamo fare per aiutarlo è far sì che noi genovesi possiamo stare bene all'interno della nostra città, che sia una città manutenuta, sicura, pulita. Quindi l'obiettivo nostro è quello di cercare che la pubblica amministrazione, sensibilizzare la pubblica amministrazione affinché vengano gestite in maniera più puntuale queste cose. Quindi chiediamo non solo a questo punto l'approvazione di questo regolamento, sperando che vengano recepite tutte le nostre eccezioni, ma chiediamo anche un'intensificazione dei controlli tale per cui possa essere messo a pieno regime non solo al regolamento ma comunque anche tutta la regolamentazione che già c'è, perché già con la regolamentazione attuale si possono trovare soluzioni efficienti rispetto alle situazioni di cui abbiamo parlato. Quindi diciamo che se noi stiamo bene nella nostra città ci possono stare bene anche i viaggiatori che vengono da lontano, sempre di più e portando ricchezza nella nostra terra. Marina vuoi aggiungere qualcosa? Vorrei solo fare una domanda rivolta all'amministrazione, nel senso che a parte i controlli, a parte il regolamento, io vorrei chiedere esattamente che contributo vuole dare l'amministrazione al centro storico, nel senso che a volte noi ci scontriamo con troppa burocrazia quando le nostre idee vengono affossate, proprio perché noi ci viviamo nel centro storico, ci lavoriamo e sappiamo benissimo di che cosa ha bisogno. Io chiedo soltanto che venga dato un contributo che possa essere di aiuto per lo sviluppo delle nostre idee, perché noi di idee ne abbiamo tante, perché noi il centro storico lo stiamo aiutando a crescere. Sinceramente mi piacerebbe che l'amministrazione comunale rimasse con noi verso questo obiettivo. Quali sono i progetti, le idee che avete già messo in cantiere? I progetti e le idee sono quelli della riqualificazione, ossia di tutte le iniziative che sono portate avanti dai CIV di tutto il centro storico e poi alla fine di tutta Genova. E in più nella zona di Piazza delle Erbe avevamo portato avanti un progetto di riqualificazione che è partita sia dalla risistemazione di tutti i Deor per dare un'immagine più bella della piazza e dal progetto di una riqualificazione della zona delle scalette dove si ammassano i problemi della nostra zona. Quando ho letto le dichiarazioni ci sono rimasta anche un attimo basita, un po' anche male perché sinceramente non è proprio vero che noi non abbiamo mai chiamato nessuno e che in zona c'è questo alone di omertà perché noi tutte le sere chiamiamo e a volte ci sentiamo anche rispondere che la zona sappiamo bene qual è e che non ci possono fare nulla. Quindi non è proprio vero che noi non vogliamo chiamare o noi non vediamo nulla perché tutti gli abitanti del centro storico, soprattutto quelli che abitano nei vicoli un po' più bui come quelli dell'altra sera, le forze dell'ordine le chiamano e come? Sono loro che non vengono. A volte in piazza delle erbe chiamiamo anche contemporaneamente anche i gestori dei locali, sono loro che poi non rispondono finché non succeda qualcosa di più grave.